Dante era un peccatore? Da quello che ci dice lui stesso nella sua Divina Comedia che inizia con la terzina nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la direttaria era smarrita. All'età di 35 anni Dante si trova immerso dentro il peccato. Vedremo nei prossimi video quali peccati hanno avvolto la vita di Dante all'età di 35 anni. Ciao al prossimo video a presto Ciao a tutti